Ciao a tutti ragazzi, sono insolitamente in un fast food da KFC e qui dentro c'è il mio prossimo assaggio che adesso vi svelo. Si tratta dello zinger black, il panino zinger black che come vedete è caratterizzato appunto dall'avere panino nero al carbone vegetale. Adesso vi faccio anche vedere qui sulla scatola c'è, ci sono tutte le cose che ci sono dentro al panino, quindi oltre al black bun che sarebbe il pane nero, il carbone vegetale, dentro c'è appunto il bacon, il crispy fillet, filetto croccante eccetera. E adesso andiamo ad assaggiare. E adesso assaggiamo. Allora devo dire molto buono, l'insieme è molto buono, il sapore del pane non si sente tantissimo, non è molto diverso comunque dal pane normale. Se trovate un KFC che lo fa provatelo. Allora detto questo noi ci sentiamo al prossimo video, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social e se volete potete comunque mettere un like se il video vi è piaciuto, lasciare un commento e condividere il video con i vostri amici per farvi vedere questa novità che c'è da KFC. Io direi che adesso è ora di andarmi a lavare i denti perché sembra che ce li ho tutti neri. Vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!